Forza Napoli, grande Napoli, grandissima partita del Napoli che batte 2 a 0 il Liverpool con gola all'ottantaduesimo su calcio di rigore di Mertens, era il doppio e il novantesimo del Re Leone nell'Oriente, avevo detto che avrebbe segnato l'Oriente, grandissima prestazione del Napoli penso come molti di voi siete senza voce, grandissima prestazione del Napoli, ottimo primo tempo ma aveva lasciato soddisfatto con una grande parata del portiere Adrian, doppia parata su Fabian Ruiz poi su una sbagliata del Napoli, grande diagonale difensiva nel primo tempo di Fabian Ruiz entra il secondo tempo, ha giocato quasi solo Napoli nel secondo tempo arriva una parata miracolosa, veramente, del portiere Adrian che su un cross di Mario Ruiz, a colpo sicuro, a circa neanche 3 metri dalla linea di porta la colpisce Mertens, è autentico miracolo del portiere poi su una lisciata di Manolas, strepitosa parata del nostro grande portiere Meret poi quando Napoli aumenta la fase offensiva e fa il campo in Lozano con l'Oriente, arriva il vantaggio del Napoli fa un fallo, un pomigengo, un difensore del Liverpool su Calegion calcio di rigore, si prende la responsabilità dal dischetto il nostro grande Ciro Mertens e sigla l'1-0 per il Napoli Napoli in vantaggio meritatamente contropiede le Napoli, pochi minuti dopo, circa il novantesimo, arriva il 2-0 definitivo bravissimo Re Leone, l'Oriente che si mette in mezzo tra il portiere del Liverpool è un difensore, ruba palla, fa un tocco sotto sotto le gambe del portiere è grandissimo gol di opportunista del nostro, grandissimo l'Oriente che sigla 2-0 grandissima vittoria del Napoli, grandissima prestazione del Napoli nell'altro girone, ricordo che il Salzburg ha vinto 6-2 contro il Genk risultato molto rotondo, veramente impresa stratosferica del Napoli che batte 2-0 il Liverpool, detentori della Champions League una delle cinque squadre più forti del mondo, grande partita tecnico-tattica del Napoli veramente mi sono piaciuti tantissimo, sono molto emozionato mi sentirete, sono senza voce ripeto, prima di Champions League il Napoli batte 2-0 il Liverpool diamo i voti, Maret 7-5, Colibali 7-5, Manolas 7, Di Lorenzo 7-5, Marerui 7-5 Faberou 6-6, non mi è piaciuto tantissimo Alain 7-5, Calegion 7-5, Insigne 7, Merten 7, Lozano 7, Luriente quanto è subentrato? 8-5 vi auguro una buona serata, una notte magica del nostro grande Napoli che ha avuto veramente, sono emozionato scusate ha avuto veramente una notte da Leone, da Leone, da Leone grandissimo Napoli che batte 2-0 il Liverpool in una partita, scusate l'emozione, a livello tecnico, tattico, perfetta accorta la squadra veramente un grande Napoli che batte 2-0 il Liverpool chi non si è ancora iscritto al mio canale iscrivetevi, iscrivete al mio canale la voce è andata via definitivamente al 1-0, al 2-0 di Fernando Luriente Forza Napoli! 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 For